Buongiorno, focus bollettino culture erbacee, aggiornamento. Notue, sono continuate le catture della specie Agrotis y, la specie migrante di cui vedete un esemplare, un adulto maschio, che è caratterizzato come la femmina da avere sull'ala una freccetta, una y nera nella parte posteriore, molto caratterizzante. La distingue anche dalla specie Agrotis segettum, che è l'altra specie importante di nuotto e che può far danno nel nostro territorio, è la specie non migrante che sverna qui da noi e che talora localmente può fare danno. Abbiamo iniziato le catture anche di questa specie e quindi abbiamo cominciato a calcolare la sommatoria termica anche per questa nottua. In ogni caso per il momento la sommatoria termica ci dice che siamo lontani ancora dalla formazione del quarto stadio, che è il primo che fa danno alle culture. Seguite il bollettino e sarete aggiornati in tempo utile per capire quando ci sarà il rischio di danno. Frumento, abbiamo segnalato nella scorsa settimana l'aumento significativo di rischio da ruggine gialla e da septoria, mal del piede e seguite bene il bollettino perché man mano daremo aggiornamenti sull'evoluzione delle malattie fungine in tempo utile sempre. Potete vedere le mappe con tutti i dettagli se vi iscrivete al bollettino o se lo seguite sul sito. Per ricevere il bollettino potete scrivere a bollettino.erbace.chiocciola venetoagricoltura.org. Potete iscrivervi anche al bollettino cimice che da quest'anno consente di avere in tempo reale i dati del monitoraggio. Potete seguire quello che succede. Tenete presente che ormai le temperature hanno superato gli 11 gradi e quindi la fuoriuscita dai siti di svernamento è iniziata e sopra i 15 gradi cominceranno anche a volare e quindi man mano aumenterà la diffusione di questo pericoloso fitofago che si sta monitorando in modo molto attento su tutto il territorio regionale. Potete seguire anche il bollettino apistico e sempre scrivendo a bollettino.erbace potete chiedere l'iscrizione anche a questo bollettino. Buon proseguimento dei lavori in campagna.